Anticipazioni Beautiful. Incredibile Taylor lascia per sempre Ridge. Puntata intera dell'11 dicembre 2023. Benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi daremo una anticipazione di quanto accadrà in futuro nella SOP. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. Il mio destino. Non so nemmeno più cosa diavolo significhi, dice Ridge camminando in giardino e, mentre ripensa a momenti romantici con Brooke e Taylor, una grossa pigna cade dal cielo e lo colpisce in testa. Brooke e Liam discutono delle loro preoccupazioni riguardo al tempo che Hope passa con Thomas. Brooke dice di voler organizzare una cena romantica con Ridge. Liam la informa che Hope e Beth trascorreranno la notte nella Villa Forrester e questo sorprende molto Brooke. Dopo la partenza di Liam, Brooke chiama Ridge per organizzare la cena romantica e lascia un messaggio vocale quando non riceve risposta. Nel frattempo nella suite esecutiva alla Forrester Creations, Hope parla con Thomas e gli dice che capisce perfettamente come si sia sentito durante la visita dei servizi sociali e gli offre il suo aiuto. Thomas è sorpreso dalla fiducia che Hope ha in lui e le dice che è sempre la benvenuta nella sua casa, ovunque lui viva. Hope gli confessa che, nonostante ora sia contenta che Douglas passi più tempo con Thomas, lei sente molto la mancanza delle risate di Douglas e le manca potergli cantare la ninna nanna. Hope poi parla del successo della linea Hope for the Future parlandone come la nostra linea. Thomas è sorpreso da questo ma Hope gli dice che Hope for the Future è il risultato di un lavoro di squadra, al quale Thomas ha contribuito in modo significativo. Poi, mentre guardano alcuni disegni, le mani di Hope e Thomas si sfiorano accidentalmente. causando un momento imbarazzante tra i due, Hope si affretta a correre dall'altra parte dell'ufficio dicendo che deve andare a parlare con Zende e che lo vedrà più tardi a casa di Eric. Ad Aspen, Taylor dice che è stata una ottima idea partire con Steffi e dice di sentirsi davvero bene a quell'altitudine. Steffi considera seriamente l'acquisto della casa di Bill per usarla come luogo per le riunioni di famiglia. Steffi chiede alla madre di andare a cena fuori assieme ma Taylor preferisce rimanere a casa per riflettere sul suo comportamento recente e ammette di amare profondamente Ridge ma di lottare, con l'ansia costante riguardo al futuro della loro relazione. Steffi sostiene che Brooke tradirà la fiducia di Ridge prima o poi, ma Taylor crede che non dovrebbero desiderare questo risultato ma dovrebbero desiderare semplicemente che la vita dia il meglio a Ridge. Taylor chiede a Steffi di smettere di incoraggiare una relazione tra lei e Ridge e Steffi abbraccia sua madre che piange mentre dice di dover lasciare andare Ridge e concentrarsi su se stessa per il proprio bene. In seguito, Steffi chiama Thomas per dirgli che il continuo tira e molla ha messo davvero a dura prova loro madre e confessa che è stato molto difficile vedere loro madre mettere in discussione tutto. Quando Steffi chiede come stia Ridge, Thomas dice che non ha sentito notizie da loro padre. Taylor esce di casa per camminare lungo un ruscello. Mentre lo fa, ripensa ancora una volta a Monaco, al suo bacio con Ridge. Improvvisamente però una voce grida il suo nome e vede Ridge in piedi dall'altra parte del ruscello. Mentre Ridge si avvicina con un sorriso, Taylor lo guarda con un'espressione seria e pensierosa.